Passo 1 Utilizzare Wipes Wet numero 1 per pulire lo schermo Passo 2 Utilizzare Wipes Dry numero 2 per asciugare lo schermo Passo 3 Usa Dust Absorber per assorbire le polveri sullo schermo Passo 4 Rimuovere la pellicola linguetta 1 Passo 5 Posizionare la protezione sullo schermo Allinearla correttamente Se non è possibile allineare correttamente la protezione, sollevarla e riposizionarla correttamente Passo 6 Utilizzare la spatolina per schiacciare la protezione per lo schermo Passo 7 Staccare l'adesivo, posizionare la spugnetta nera sulla scrivania e spostare il telefono su di essa Passo 8 Sollevare la linguetta 2 e spingere la spatolina dalla linea tratteggiata fino alla parte superiore del telefono Passo 9 Sollevare la linguetta 3 e spingere la spatolina dalla linea tratteggiata fino alla parte inferiore del telefono Passo 10 Usa la spatolina per spremere le bolle sulla protezione dello schermo Passo 11 Rimuovere la pellicola linguetta 1 Passo 12 Usa il pollice per premere delicatamente la protezione per lo schermo fino al bordo del telefono Assicurandoti che la protezione aderisca bene Passo 12 Usa il pollice per premere delicatamente la protezione per lo schermo fino al bordo del telefono Passo 13 Utilizzare il panno in microfibra per pulire le polveri sulla superficie del proteggi schermo L'installazione è fatta Grazie a tutti.